Mediagol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo calcio. Perché devi incontrare una squadra che mettesse un po' più in difficoltà? Quasi passati sei anni ho tornato a mia città, però Palermo è sempre un grande equivo per me. Ho giocato oggi, non è bene, però c'è manca un settimana per il campionato. Squadra italiana, secondo me, bisogna tre o quattro settimane. Quando ho cominciato il campionato, dopo, secondo me, erano pronti. Secondo me, loro c'erano tanti bravi giocatori e spero che giocino molto bene il campionato per loro. C'è qualcuno che in particolar modo questa sera ti è piaciuto guardandoli un po' da fuori? Un po' da fuori? Giocatore? Sempre Micoli, mio amico, sempre Micoli. Nel tuo ruolo, come vedi, il giovane Acqua e anche Bacinovic, stanno un po' nel tuo ruolo. Com'è? Non è capito bene. Nel tuo ruolo al centrocampo, come vedi, Bacinovic e Acqua? Sì, giovani giocatori. Io non piace. Però forse nel Palermo... Gioca Serie A, sicuro c'è qualità, ma secondo me, per Palermo, quando io gioco Inter, loro c'è tanti bravi giocatori. Secondo me adesso devi lavorare di più. Dopo il risultato viene, buon risultato viene. Però forse al Palermo manca un giocatore come M.R.E., con quella qualità in mezzo al campo. Io non dico niente per questo, però io adesso ho vecchio, ho 32 anni, se io ho 26-27 voglio giocare per Palermo, però adesso, passato, io voglio giocare per mia città. E' così. Va bene.